Per raccontarvi un po' quello che è stato il percorso che ci ha portato a individuare in lui le caratteristiche prima morali e poi tecniche che cercavo. Dal punto di vista morale, umano, ho preso delle informazioni su Giulio da tanta gente che ha lavorato con lui perché naturalmente non avevamo mai avuto occasione né di lavorare insieme e tanto meno di incontrarci sui campi. Le referenze erano totalmente in linea con quello che cercavamo noi, sia un ragazzo motivato che conoscesse bene la categoria ma soprattutto un ragazzo che fosse un valore aggiunto per il gruppo e per la piazza di Ravenna perché quest'anno, lo sapete, abbiamo bisogno di tanto entusiasmo e di gente che in primis esposi la nostra causa. Quindi ho preso queste referenze, il discorso tecnico poi l'ho affrontato direttamente con lui ma sicuramente era quello della ricerca di un giocatore versatile in grado di ricoprire entrambi gli spot nel reparto lunghi e da parte sua ho ricevuto subito questo tipo di disponibilità e un giocatore che poi fosse anche protagonista in queste rotazioni. Per la palla a canestro, cosa ti senti di dare a questa realtà? Qual è la tua sfida qui al basketravenne? Le tue prime sensazioni anche visto che abbiamo iniziato il round 1 due giorni fa? Buongiorno intanto, il coach ha già detto praticamente tutto, ci è voluto poco tempo anche perché dopo la vittoria del campionato io e la società, parlo di Tortona, ci eravamo subito confrontati e sapevo che non avrei avuto un ruolo importante ma un ruolo marginale è arrivato tra un mese e comunque 30 anni, avevo voglia di avere un ruolo più da protagonista di giocare, di divertirmi e quindi in questi 40 giorni poi da quando ho finito tra le offerte che ho ricevuto questa mi è sembrata quella più in linea con le mie aspettative e con la mia voglia di fare e come ho già detto è stata determinante la chiacchierata che abbiamo fatto io e il coach perché veramente mi ha detto praticamente quello che avrei voluto dire io e quindi come ha detto di conseguenza è stato semplice scegliere al di là di tutto e sono contento di essere qui perché Ravenna è la squadra che l'anno scorso ci ha messo più in difficoltà e parlo nell'arco di tutta l'annata, è stata la serie più difficile e quando il coach mi ha detto che praticamente tutti i giocatori italiani sarebbero stati confermati ho capito subito che la squadra speriamo potesse essere competitiva e niente è stata una scelta abbastanza semplice ripeto perché le mie idee fuori del coach prima di tutto erano in linea ed eravamo sulla stessa parte. Per quanto riguarda la realtà adesso sono arrivato due giorni fa quindi abbiamo fatto qualche allenamento, mi sembra tutto abbastanza a posto, siamo organizzati bene la stagione speriamo sia lunga e divertente quindi spero vivamente che si possa avere del pubblico lo spero vivamente perché soprattutto quando una squadra diciamo come la nostra, con l'impronta come la nostra con il cammino che vogliamo fare, avere il pubblico secondo me cambia molto spero che si possa avere, ci conto, ci contiamo tutti penso e tra l'altro io ho un bellissimo ricordo perché sono stati veramente super gentili e disponibili anche con noi quando siamo venuti a giocare qua quindi spero di poterli incontrare tutti il più presto possibile